Ciao a tutti, io mi chiamo Lorenzo. Io sono Andrea. E abbiamo vissuto qui in casa di Chris e di Anna per tre settimane. È stata un'esperienza bellissima, la consigliamo a tutti. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo girato parecchio, le lezioni sono divertenti. Sì, soprattutto si impara davvero l'inglese vivendo con la sua famiglia e conoscendo la cultura inglese davvero. Abbiamo girato tutto quanto lì Sussex e siamo stati a Londra, siamo stati a Stonehenge, abbiamo visto praticamente tutto ciò che c'era da vedere in questa parte dell'infero. Una bellissima esperienza, la consigliamo a tutti.